La metodologia che insegnano in Arsutoria è universale, è il manuale della realizzazione dei modelli delle calzature. Sono Tommaso Stani, sono un ex allievo dell'Arsutoria, frequentato la scuola in corso di tecnico modellista nel 2013. Nello stendere le basi, nel creare i cartamodelli mi sono trovato subito molto molto bene. Segnano la precisione che non credevo nemmeno di avere, la metodologia nel lavoro. Subito dopo il corso sono entrato come stagista in Gucci nel reparto prototipia interfaccia stile donne elegante. Successivamente finito lo stage sono passato nel reparto sneakers. Ho lavorato anche lì nella prototipia interfaccia stile, generalizzazione dei prototipi, ora invece industrializzo i modelli che andranno in produzione. Il lavoro è impegnativo però molto stimolante, è quello che voglio fare, amo il mio lavoro e anche l'ambiente lavorativo che ho trovato in azienda è stato ottimo. Sono venuto a conoscenza della scuola dopo varie ricerche tramite un signore di 70 anni che frequentò Arsutoria nel 50 anni prima e mi disse non so se esiste ancora questa scuola però io ho fatto questa e ti consiglio questa. L'ho cercata, sono venuto a Milano, l'ho visitata, mi ha fatto fin da subito un'ottima impressione e mi sono iscritto. È un ambiente internazionale e il corso era esattamente ciò che mi aspettavo. Non avevo nessuna conoscenza di calzature e il corso parte a step, all'inizio abbiamo fatto anche un'infarinatura generale su cosa è la calzatura, poi una settimana di disegno, design, stilistico e poi è partito l'aspetto tecnico, quindi cartamodelli e quant'altro. Consiglio la scuola perché è indirizzata sul mondo del lavoro. Quando ho cominciato a lavorare per l'azienda per cui lavoro non ho avuto grosse difficoltà, parlavo la stessa lingua dei miei colleghi anche se avevo molta, anzi zero esperienza rispetto a loro. Se ti piacciono le calzature, se ti piace il lavoro del modellista, se vuoi entrare in questo mondo che per me è stato balzo nel nulla, tutto nuovo, ma una vera e propria scoperta, la consiglio.